1985 azioni dei commando spalestinesi negli aeroporti di roma e viena 1968 l'apollo 8 rientra sulla terra ammarando nell'oceano pacifico 1901 nasce marie magdalene marlène ditri commenta il fatto del giorno omar monestier direttore del messaggero veneto comincia oggi un viaggio che segnerà per sempre la storia dell'evoluzione charles darwin si imbarca per una delle sue più grandi scoperte